Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Lavoratori in nero ed evasori fiscali nel mirino della Guardia di Finanza ha presentato il bilancio 2015 delle fiamme gialle di Pesaro e Urbino Distribuite le deleghe della nuova giunta regionale Il presidente Ceriscioli si tiene quella della sanità e del sociale Calciomercato, l'Alma acquista chiacchierelli dal San Nicolò Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale parlandovi dei risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza nel 2015 nella provincia di Pesaro e Urbino Nei primi mesi dell'anno, in forte aumento rispetto al 2014, le evasioni fiscali Vediamo il servizio di Simona Zonghetti 33 evasori fiscali, 8 datori di lavoro che hanno utilizzato 20 lavoratori in nero di cui un extra comunitario e confiscati beni per oltre 10 milioni di euro Questi alcuni dei risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza Provinciale da gennaio a maggio del 2015 Un bilancio illustrato durante una conferenza stampa dal colonnello Antonino Raimondo in occasione del 241esimo anniversario della Fondazione del Corpo Il nostro compito, ha detto, è quello di aiutare e sostenere l'economia sana e cittadini onesti Garantire condizioni di equità fiscale, quindi di rispetto delle regole per tutti consente a determinati soggetti di non approfittare dell'illegalità economica quindi a non approfittare, mediante l'evasione, di essere più competitivi sul mercato E cercavano di essere più competitivi sette imprenditori cinesi operanti a Fano, Urbino e Fermignano che formalmente erano in regola, ma si dimenticavano di versare le imposte Fra i soggetti controllati, quattro sono risultati completamente sconosciuti al fisco Le operazioni ispettivano, permesso inoltre di individuare due lavoratori in nero di cui uno senza permesso di soggiorno e di sequestrare un locale aziendale a Fossombrone per gravi violazioni alle norme anti-infortunistiche sui posti di lavoro Un risparmio di imposta di centinaia di migliaia d'euro per ogni annualità da parte di ciascun operatore consentiva a questo operatore economico di essere competitivo nei confronti del mercato e quindi di poter avere l'opportunità di aggiudicazione da parte di committenti privati di appalti per realizzazione di manufatti parliamo di abbigliamento, capi di pelletteria, tutti di altissima qualità con prezzi chiaramente più vantaggiosi e più competitivi In aumento rispetto al 2014 anche le anomalie in tema di scontrini e ricevute fiscali su 1.137 controlli sono stati 166 quelli risultati irregolari La Guardia di Finanza ha denunciato inoltre 7 persone per aver richiesto percepito indebitamente assegni sociali o pensioni per oltre 57.000 euro riservati a persone in condizioni di invalidità Quattro violazioni amministrative invece sono state elevate nei confronti di distributori di carburante per la qualità non idonee dei prodotti petroliferi Per quanto riguarda le azioni a contrasto della criminalità sono stati confiscati beni per oltre 14 milioni di euro ad un sodalizio dedito all'estorsione, clonazione e ricettazione delle carte di credito un risultato che rientra nell'operazione denominata Top Up che ha portato nel 2013 all'arresto di quattro persone Tra i beni confiscati, tre stabilimenti a cartoceto, una palestra, diverse vetture e conti correnti Nel mirino delle Fiamme Gialle è anche un capannone nella periferia di Fano in cui sono state trovate oltre 500 chili di sigarette di contrabbando sequestrate insieme al deposito e l'autocarro utilizzato per il trasporto e il commercio illegale avrebbe fruttato circa 320.000 euro infine sono le banconote false per la maggior parte del taglio di 20 euro segnalate alla Procura della Repubblica Fondamentali, ha precisato il comandante provinciale Raimondo sono state le telefonate al 117 da parte dei cittadini che hanno consentito di individuare e reprimere diversi illeciti finanziari e amministrativi Colpire l'aspetto fiscale, ma colpire la tutela della spesa pubblica colpire il mondo dell'antiriciclaggio studiare le varie fenomenologie individuando i giusti target di carattere giuridico sono la sfida che ogni finanziere nel proprio quotidiano sente come una propria missione e i risultati dei primi cinque mesi del 2015 sono da parte nostra una grande testimonianza dell'impegno di tutti, di tutti i finanzieri che con l'occasione ringrazio E questa mattina in Viale Gramsci a Fano si sono vissuti momenti di apprensione per una cane chihuahua che per un'inavvertenza della padrona è rimasto bloccato dentro l'auto con i finestrini chiusi sotto il sole La sua padrona ha inserito le chiavi nel cruscotto e poi dopo aver posizionato l'animale all'interno della vettura dalla parte del passeggero assieme ai bagagli ha chiuso la portiera e mentre ha fatto il giro dell'auto le chiusure centralizzate si sono bloccato risultato? Cane, chiavi e cellulare chiusi dentro l'abitacolo dell'auto con relativo panico ma con l'aiuto di qualche passante sono stati allertati i vigili del fuoco intanto però la temperatura all'interno dell'abitacolo saliva pericolosamente al loro arrivo i pompieri hanno coperto il vetro dell'auto con un telo isolante e hanno recuperato le chiavi senza forzare la portiera così pericolo scampato e padrone e Chihuahua hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo Passiamo alla pagina della politica questa mattina si è svolta la prima seduta della giunta regionale Marche preseduta da Luca Ceriscioli che ha attribuito le deleghe agli assessori nominati ieri vediamo il servizio Il presidente della regione Marche terra per sé le deleghe della sanità e del sociale almeno per i primi tempi lo ha detto lo stesso Ceriscioli annunciando oggi ad Ancuna la ripartizione delle deleghe tra i sei assessori della sua giunta tre donne e tre uomini quattro del PD, un socialista espresso dalla lista Uniti per le Marche e un'esterna dell'area Udc Popolari secondo il presidente non è stato semplice redistribuire per sé le deleghe pensate per dieci assessorati molte poi sono le novità del nuovo esecutivo a partire dall'equa rappresentanza di genere con addirittura un vice presidente donna Anna Casini non esiste la sintesi che accontenta tutti però esistono percorsi possibili e credo che dentro questo campo abbiamo fatto il massimo per tenere insieme le tante cose che vogliamo unire le tre donne e i tre uomini, le competenze, i territori tutte le province hanno un loro rappresentante e anche le diverse anime politiche all'interno della singola forza ad Anna Casini sono state affidate le deleghe per i lavori pubblici, l'urbanistica e le infrastrutture a Manuela Bora quelle dell'industria, politiche europee e pari opportunità Fabrizio Cesetti si occuperà del bilancio turismo e cultura a Morino Pieroni mentre ad Angelo Sciapichetti vanno le deleghe al trasporto e all'ambiente lavoro e istruzione infine a Loretta Bravi, unica esterna in giunta Io ringrazio il presidente Ceriscioli che ha creduto in me, ringrazio tutti quelli che mi hanno portato fin qua a partire dal mio partito, spero di rappresentare e di onorare soprattutto i miei territori e nello stesso tempo per le deleghe che mi ha dato di mostrare la competenza dove ci saranno un pochino più di problemi, dove la delega è onerosa come quella del lavoro cercherò di incontrare gente e sempre di partire dai giovani Da domani tutti gli assessori saranno già al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dal presidente Ceriscioli, illustrati ieri durante la prima seduta del Consiglio regionale Nessuno di noi aveva mai partecipato ad una giunta regionale quindi ridifiniamo anche lo stile e il modo di fare e da subito gli obiettivi per i primi 300 giorni quindi già gli assessori si metteranno in moto da domani per realizzare quello che abbiamo promesso ai marchigiani per l'inizio di mandato Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura delle strade comunali di Fano un nostro telespettatore ci ha inviato una fotografia di via Giulini asfaltata per tre quarti e aggiunge pare che non siano arrivati al marciapiede per mancanza di fondi Un altro nostro telespettatore invece ci ha inviato questa immagine della pista ciclabile di Centinarola di Fano è cambiato il sindaco, ci scrive, ma il degrado rimane Siamo alle solite, conclude, non cambierà mai niente E adesso parliamo anche della cittadinanza attiva e di videosorveglianza perché sono stati approvati due regolamenti dalle commissioni fanesi e sentiamo di che cosa si tratta nel servizio Si chiama regolamento per la cura, la rigenerazione è una fruizione partecipata dei beni comuni urbani, quello approvato in modo congiunto dalla prima e quarta commissione del comune di Fano Si tratta di un regolamento che istituisce per la prima volta principi e norme per la collaborazione tra l'ente e i cittadini sia singolarmente che riuniti in associazioni ma regolamenta anche in via del tutto unica un rapporto di collaborazione con le aziende private Questo atto, comunemente definito di cittadinanza attiva potrebbe prevedere una serie di agevolazioni per i cittadini stessi come l'esenzione in materia di imposte, tasse e diritti Nella fattispezione un cittadino o una situazione di cittadini possono richiedere al comune la gestione e la manutenzione di alcuni beni di proprietà comunale che potrebbe essere il verde, il verde pubblico, potrebbe essere una struttura qualunque tipo di bene che appartiene al comune In questo caso c'è una richiesta oppure il comune metterà a bando alcuni beni e chi è interessato può fare domanda per la gestione e la manutenzione È stato approvato inoltre il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale che permetterà di installare un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza urbana nonché per il controllo del corretto smaltimento di rifiuti nel territorio Si inizierà da un sistema di telecamere mobili che saranno fatte rotare sulle circa 300 isole ecologiche di Fano ASET si farà carico dell'acquisto delle apparecchiature tecnologiche stimato sulla cifra di poche migliaia di euro e sarà poi la polizia municipale a visionare le immagini rilevate valutare l'infrazione commessa e procedere con il verbale a carico del trasgressore Un freno ha una cattiva abitudine che si sta sempre più manifestando dell'abbandono dei rifiuti Questo vuole essere anche soprattutto un messaggio chiaro nei confronti di chi rispetta le regole e chi invece non lo fa quindi chi si invaglia sarà sicuramente più e dovrà pagare Domani mattina alle 9.30 arriverà in corso Matteotti a Fano la sesta ed ultima tappa del ride cicloturistico organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Vaccinarsi un gran tour di 700 km in bici che partito venerdì da Francavilla sta permettendo ai 15 partecipanti di conoscere le bellezze delle Marche ed Abruzzo e allo stesso tempo di promuovere una campagna informativa sulle vaccinazioni e in particolare sul sito vaccinarsi.org Domani in corso Matteotti ci sarà a disposizione anche un gazebo con gli addetti dell'associazione che potranno darvi ogni delucidazione sul caso e naturalmente sulle vaccinazioni Recuperato a Venezia l'abito della beata Margherita della Metola patrona dei non vedenti che sarà esposto da domani mercoledì 24 nella sua città natale Mercatello sul Metauro il recupero della veste in parte rovinata nella parte destra di colore marrone chiaro con una cinta e un maglioncino è stato eseguito dal vescovo di Urbino Monsignor Giovanni Tani e dal parroco di Mercatello sul Metauro Don Piero Pasquini dopo una settimana di esposizione sarà collocata in un luogo che diventerà un piccolo santuario il 33enne fanese Michele Cicoli attualmente ricercatore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna è stato insignito del premio Alfredo Di Braccio per il 2015 riservato a studiosi in fisica sotto i 35 anni il premio gli è stato conferito lo scorso 11 giugno durante l'adunanza generale solene dell'Accademia Nazionale dei Lincei in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la motivazione ufficiale del premio è stata l'ampia produzione nel campo delle teorie moderne delle particelle elementari con risonanza internazionale e da oggi il club nautico fanese ha un nuovo defibrillatore grazie alla fondazione Cassa di Risparmio di Fano vediamo tante cose speriamo di non doverle usare mai ma se servisse deve essere un posto giugno grazie grazie a te Alberto un'altra sentinella del cuore è stata donata alla città dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano il nuovo macchinario da oggi sarà a disposizione del club nautico fanese per interventi d'emergenza in caso di arresto cardiaco e come ha precisato il Presidente Fabio Tombari durante la consegna ufficiale avvenuta nella sede dell'ente l'obiettivo è quello di acquistarne altri 10 per poterli donare anche ad altre associazioni del territorio siamo lieti questa mattina di consegnare questo defibrillatore al club nautico di Fano un club molto antico, molto frequentato mi dicono che è stato fondato nel 1905 è una delle tradizioni della marineria, della città di mare molto antica e molto sentita un centinaio di soci frequentano questo club e noi siamo lieti di donare questo apparecchio questo altro apparecchio sperando che non venga mai usato ma che nel caso ce ne fosse bisogno potrebbe essere ritenuto molto utile è un dono prezioso ha commentato il Presidente del club nautico fanese André Serafini che ringrazia la fondazione Carifano ricordando che un defibrillatore può salvare la vita può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona nei pochi minuti che sono necessari per intervenire nella rianimazione cardiovascolare e quindi lo metteremo a disposizione non solo dei nostri soci chiaramente ma anche della cittadinanza di tutti quelli che gravitano nella zona del Lido per le emergenze abbiamo già alcuni nostri istruttori che sono abilitati ad utilizzarlo e faremo dei corsi per tutti gli altri nostri istruttori e i soci che maggiormente frequentano il club e lo renderemo disponibile sia per la nostra attività sportiva per i nostri soci che per la cittadinanza è stato inaugurato domenica scorsa il murale a mosaico realizzato nel piazzale di Villa Valentina sul lungomare a Marotta un lavoro minuzioso che ha impegnato per due mesi l'associazione culturale Chiaro e Scuro insieme ad anziani con diverse patologie e disabilità presenti anche il vice sindaco Alvise Carloni e il neoconsigliere regionale Boris Rapa ed ora apriamo la pagina sportiva perché la fanese Daniela Romiti ha vinto il campionato femminile di biliardo con la gara che si è svolta domenica 21 giugno a San Vensan in Val d'Aosta ancora sport l'atleta portacolori del Fanon Fortuna e Nuoto Flavia Medori è salita invece sul gradino più alto del podio ai campionati italiani Master di Riccione conquistando l'oro nella gara in mare del Miglio Marino sbaragliando la concorrenza giunta da ogni parte d'Italia e una partenza con il botto anche per la fanese Elisa Genogastri in occasione della seconda tappa regionale di equitazione che si è svolta a Pesaro sabato 20 giugno la piccola mazzone di casa Royal Oak Ranch Ors Reading Team di gran lunga la più piccola nella sua categoria con i suoi otto anni in sella al suo inseparabile amico Kiss della Love si aggiudica il gradino più alto del podio per la disciplina delle dressage categoria E80 e sempre in tema di sport chiudiamo con il calcio mercato è l'Alma Juventus Fano perché si è giudicata un importante acquisto si tratta dell'esterno di alto classe 88 Maurizio Chiacchiarelli ex del San Nicolò Teramo dunque un bel colpo per l'Alma Juventus Fano bene questa era l'ultima notizia che vi davamo per questa sera è tutto grazie per essere stati in nostra compagnia e aver seguito Occhio alla Notizia naturalmente torneremo domani sera alle 20.30 puntuali se vorrete saremo qui buonasera grazie a tutti